Matteo Scozzarella, c'è più amarezza per l'occasione così sciupata per mettere in cassaforte il discorso salvezza, più la convinzione di aver comunque guadagnato un altro punto? Entrambi, penso ci dispiace un po' di più aver perso due punti avendo iniziato bene la partita. Eravamo passati in vantaggio, potevamo gestirla un po' meglio però il Chievo nel secondo tempo ci ha messo un po' di difficoltà, ha cambiato qualcosa e noi non siamo riusciti a prendere bene le misure. Ciò non toglie che comunque sono ditati otto i punti e quindi dobbiamo partire da questo. Cosa non ha funzionato in questo secondo tempo? Loro vi hanno messo molto in difficoltà, anche qualche disattenzione forse di troppo. Qualcuno dice che hanno sottovalutato l'avversario così? No, sottovalutato non di certo. È una cosa che non abbiamo mai avuto perché sappiamo il rispetto che portiamo nei confronti di tutti e quanto sia difficile portare a casa dei punti in Serie A. C'è mancato forse un po' di coraggio nel secondo tempo per andare a cercare il secondo gol, però al di là di questo nel finale di stagione è meglio vedere le cose positive che quelle negative. Ecco, più otto adesso sull'Empoli, come affrontate queste ultime quattro del campionato? Ormai il discorso sta per essere chiuso. Sì, sta per essere chiuso ma non lo è ancora e noi non ci sentivamo tranquilli a fine giro andata, tanto meno adesso, quindi ogni partita deve essere quella giusta per poter arrivare all'obiettivo finale. Per te è un'altra buona prestazione? C'è anche l'assist? Come la giudichi? Io mi metto a disposizione, cerco di fare sempre il massimo per riuscire a fare quello che serve in campo per portare a casa i punti. Sarei stato un po' più felice se avessimo vinto, però dai, lo ripeto, è un punto in più rispetto al terzo-ultimo posto. Ti chiedo un po' su questi fischi, alla fine ci possono stare, secondo te, cosa hanno visto i tifosi? Io ho sempre detto che il tifoso ha il diritto di manifestare un po' quello che vede, quello che sente e quello che percepisce in campo. Ovviamente hanno visto che c'è mancato qualcosa nel secondo tempo, non è criticabile come atteggiamento, però, ripeto, c'è la positività importante, specialmente nei finali di campionato, quando le energie sono poche e il nervosismo è tanto. L'ultima per me, adesso c'è la Sampdoria, insomma, come preparate anche a livello mentale questa sfida? A livello mentale, come tutte le ultime partite che abbiamo affrontato, deve essere la partita che ci consente di arrivare all'obiettivo finale, quindi in settimana, come sempre, rendendoci a 2.000 all'ora e cercare di fare tutto quello che la natura ci dice.